Buongiorno Crotone, siamo in via Leonardo Sciascia, nel quartiere di San Francesco, in compagnia di un cittadino che ha voluto la nostra telecamera, nonostante il mal tempo, per mettere in evidenza i disagi di questa zona. Quali sono i disagi? Allora, il Manterbosa, oltre 50 anni, mai fatto qua. E ci sono, per esempio, prendiamo la via, siete stati voi con le telecamere, la via San Francesco, dopo la chiesa qua. C'è stato un assessore che abitava là, quindi è stata abitumata. Negli ultimi anni, due volte, non l'hanno fatto bene, che è già a pezzi, ed è un'altra cosa. Qua ha oltre 50 anni. Poi, per quanto riguarda l'operatore ecologico, l'ultimo operatore ecologico che è passato da qua, quando c'era la buonanima di Pasquale Senatore. Questa via non si chiama via Leonardo Sciascia, via alluvione 27 La Vendetta. Ogni anno abbiamo un alluvione qua, l'ultimo un metro d'acqua. Dobbiamo pitturare l'altro dei portoni ogni anno e via dicendo. Quindi dobbiamo dire che i problemi sono tanti, a cominciare da questo della strada, del manto stradale, che è veramente una situazione vergognosa. Ci sono tante altre cose. I cavi all'illuminazione pubblica vanno messi a norma in tutta Italia, diciamo, c'è la legge. Vanno interrate. Qua ogni tanto vengono e mettono qualche chiodo, perché i cavi che supportano i cavi elettrici e quelli d'acciaio sono tutti spezzati. Là abito io, l'ho sistemato io con dei chiodi là, perché si prendono dalla finestra i cavi. È pericolosissimo. Quindi voi state dicendo che il comune non ha nessuna attenzione per questa zona. Qua noi siamo in una fossa, diciamo. Le vie che confinano sono più alte. E arriva l'acqua da Tufolo, dalla via di fianco e dalla via della chiesa pure. Qua diventa una vasca. I tubi che ci sono interrati, che raccolgono acqua e fogna, non ce la fanno. E l'acqua esce tutto di fuori. Dunque voi volete in qualche modo mettere in evidenza che non siete cittadini di serie B e quindi volete la pari dignità e il rispetto che ci sono per altri quartieri e altre zone. Sì, è così, proprio così. Faccio l'esempio, vi è 25 aprile. Negli ultimi 50 anni è stata bitumata e asfaltata, diciamo, come minimo 10-15 volte. Qua, a oltre 50 anni, nemmeno un briciolo di sabbia è stato messo a terra. E niente è messo a norma di quello che dice la legge, niente, zero. Avete anche raccolto delle firme? Sì, tutte le firme di tutte le palazzine, tutte. C'è un protocollo con tanto di firme e foto pure. Cosa mettete in evidenza? Con queste firme che avete raccolto? Cosa serve questo documento? Non lo so, è un protocollo con firme e foto. Non lo so a quale santo dobbiamo rivolgerci. Poi se vai al comune per chiedere un appuntamento con la stessura dei lavori pubblici, d'accordo con quelli che sono giù all'accettazione, ti trovano sempre scuse, non ci sono. A voglia andare, puoi andare pure 100 volte, ti dicono sempre la stessa cosa. Ma voi le pagate le tasse? 400 euro, ho pagato l'ultima balletta a bolletta adesso, 400 euro. Quindi in realtà voi dite basta con tutta questa indifferenza? Basta, basta, basta. Per tagliare l'erba ai bordi di marciapiedra ogni anno vado io al comune, ma devo lottare, devo andare 10-15 volte per venire, se no non vengo. Ma è qualcosa, i tombini, sono tutti rotti, ci vanno con le ruote dentro le macchine, è molto pericoloso.